Bentornati a tutti. Oggi è domenica, 1 settembre 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Sagittario. Giornata memorabile, da segnare con uno smile. Scegliete lo smile più grande, colorato e simpatico che avete e inviatelo a tutti coloro che vi vogliono bene. Non è megalomania, ma il piacere di condividere ciò che oggi vi fa felici, in barba alla luna ostile, in coppia col vostro astro guida Giove in combutta con Saturno e Netuno. La vostra arma è il pensiero positivo, messo in pista da veneri dal sole, fan del viaggio come voi. Vacanze e amore procedono a braccetto, se poi l'incontro fatale è avvenuto oltre confine, cercate soluzioni pratiche ma razionali per restare agganciati, il tempo deciderà per voi. Il proprio ambiente domestico e familiare, tutto ciò che segue o precede è riferito unicamente ad esso. Possibilità di realizzare progetti per la vita a due, convivenze e matrimoni favoriti. Nei casi negativi, ostacoli e difficoltà derivanti dalla propria famiglia. Abbiate più fiducia nel partner che riuscirà a tirarvi fuori da una situazione non molto piacevole. Quando fate accordi, oggi, cercate di farli bilanciati ed equilibrati, qualsiasi accordo raggiungiate se fate funzionare e date ascolto al buon senso di certo non ve ne pentirete. Mostratevi più comprensivi con chi vi sta accanto. Un giorno potrebbe tornarvi utile. Se avete considerato che le vostre condizioni economiche attuali necessitano di un prestito finanziario o di un mutuo ma anche di una semplice cessione del quinto del vostro stipendio, fatevi fare più preventivi e esaminate più proposte possibili. Sicuramente troverete quella che fa al caso vostro. Ascoltate gli altri, almeno oggi è d'obbligo che lo facciate. Evitate di voler affermare le vostre idee a tutti i costi e ricordate che in fondo il rapporto quotidiano con le persone implica rinunce e silenzi. Oggi tutto è da prendere con enorme pazienza, qualche piccolo dispiacere potrebbe venire proprio da persone che ripenete amiche e che oggi potrebbero deludervi abbastanza. Marte oggi vi potrebbe tirare qualche brutto scherzo, non lasciatevi sorprendere e siate prudenti soprattutto nel rapporto con gli altri. Rinnovate i vostri propositi in merito a una questione di lavoro. Le stelle vi consigliano di guardarvi intorno con un occhio meno critico perché qualcuno potrebbe catturare la vostra attenzione e il vostro cuore. Non cercate l'amore dove non c'è, dovete rassegnarvi che il periodo non è favorevole e va vissuto nel migliore dei modi. La costellazione planetaria di questo nuovo giorno d'estate e ultimo del mese è abbastanza positiva. La disposizione astrale vi infonde slancio, esuberanza, vigore, qualità che spendete con gioia in ogni campo della vostra vita, specie se siete nati in novembre. I valori fuoco così pronunciati, con venere e il sole nel segno del leone, vi rendono brillanti e vivaci. Vi piacerebbe affermare che agosto si chiude in bellezza, ma stavolta non è così, con la luna dinamica e irrequieta in gemelli e la coppia Saturno-Nettuno tra lei e voi con una doppia quadratura, con il partner il dialogo si inceppa, oppure vi porta un po' fuori strada, sentite che vi nasconde qualcosa o sta glissando su un argomento che sente scottante, con il placette della famiglia complice alle spalle. Amore ed Eros. Se la coppia attraversa un momento di crisi salvifico il viaggio che la riporta in equilibrio, distaccati dal problema che vi ha allontanati recuperate rapidamente la complicità di un tempo, in viaggio piccole difficoltà pratiche, come ritrovarsi completamente fuori strada o bagnati come pulcini dopo un temporale, vi fa sorridere ricucendo lentamente l'intesa. Se siete virtuosi cavalieri alla ricerca della rosa proibita, la troverete oltreoceano. Un plutone molto positivo in acquario vi regala una lunga fase di buon umore che vi attira moltissime simpatie. È il momento ideale per far vedere chi siete. Se il vostro cuore è attualmente impegnato, ravvivate il menage con un romantico ti e con accento circonflesso teati e con accento circonflesso teserale in un ristorantino alla moda. Conquistate chi più vi piace e tirare fuori il vostro fascino irresistibile, specie se siete nati dal 23 al 25 di novembre. Lavoro e denaro Nel vostro paese d'origine le possibilità languono o il lavoro che riuscite a trovare o che state già svolgendo non è quello per cui siete tagliati o per il quale avete studiato. Il mondo è vasto e c'è posto anche per voi e le vostre competenze, datevi una mossa. Mercurio in angolo contrario dal segno della Vergine può darvi qualche noia passeggera nell'ambiente di lavoro. Tenete testa ad ogni difficoltà con il vostro piglio ardimentoso e tenace. Benessere Ritmo di vita pazzesco, notti vitagiole e viaggi all'insegna dell'estrema adattabilità, ma attenti a non eccedere, siete persone, non robot. Col caldo il rischio di ritenzione idrica si fa più accentuato, meno sale sulle vivande. Denaro Ricordatevi che le vostre riserve monetarie non sono infinite. Saturno contrario dal segno dei pesci, vi svuota quest'oggi le tasche, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 7 al 12 di dicembre. Spese impreviste, tasse, o addirittura multe, possono arrivare e farvi rimanere di stucco. Ma è possibile anche che diate fondo alle vostre risorse per togliervi qualche piccolo, o grande sfizio, ed onistico. In compenso il vostro spirito è però leggero e vi invita a trasgredire. Per lei, se vi fate condizionare da un brutto sogno, rischiate di rovinarvi la giornata, non tutti sono profetici, forse la colpa è del fegato in disordine. Per lui, piccole complicazioni di lavoro, inevitabili se per seguire la famiglia andate avanti e indietro tra azienda e vacanza, come una navetta. Meeting all'estero per chiarirvi le idee. Colore delle emozioni, rosa corallo. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 7, finanze, 6, benessere, 8. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo. Grazie. 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 Grazie.